Si avvicina la data del 10 maggio, giorno in cui il giudice del Tribunale di Cremona nominerà un tecnico per calcolare preventivamente i danni lamentati per la realizzazione del sottopasso di via Brescia dai proprietari dell'edificio del numero civico 123, angolo via Cavo Cerca. I proprietari hanno avanzato una richiesta di risarcimento al Comune lamentando Crepe e un depreciamento all'immobile, oltre a mancate locazioni e una riduzione dei canoni d'affitto. Costo finale dicono circa 600 mila euro, non una bazzecola. Gli avvocati Maria Laura Quaini e Anna Maria Fecit hanno ricevuto pertanto il mandato per procedere a un'istanza giudiziaria nei confronti dell'amministrazione municipale, che deve così aggiungere anche questa richiesta ai 450 mila euro di cui la regione chiese la restituzione e agli aumenti predesi dalla ditta costruttrice per riprolungarsi le tempistiche di realizzazione. Prevedibilmente massimo l'attesa dunque in vista della data del 10. Fino ad ora le parti sono col fiato sospeso e le bocche cucite.